La difesa contro il terrorismo e la radicalizzazione, il crimine transnazionale, i cambiamenti climatici con il relativo impatto su pace e sicurezza e i meccanismi di risposta alle catastrofi in commenti. Questi i temi sui quali vertono i due giorni di simposio congiunto su pace e sicurezza il 4 e 5 novembre presso il comando JFC Naples. Una crescente collaborazione tra l'Unione Africana e la Nato, capace di rendere sempre più efficace il proprio intervento congiunto in condizioni disastrose, quali quelle che incommono oggigiorno in territorio internazionale. Questo l'auspicio per poter reagire nel miglior modo possibile in un mondo imprevedibile. Queste le parole dell'ammiraio James Foggo. Tale legame transnazionale diventa pilastro essenziale per la stabilità di ciascun paese. Tale firma, come lo stesso ammiraglio ha ribadito più volte, è dunque atta a favorire la comprensione reciproca e rappresenta un punto chiave nel dialogo proficuo da cui far nascere e crescere la sicurezza mondiale. Precise anche le parole del Commissario dell'Unione Africana per la pace e la sicurezza. Da noi intervistato su temi quali l'importanza della prevenzione e sulle difficoltà trovate durante le proprie operazioni di pace, si è dimostrato deciso nel puntualizzare che tra gli obiettivi fondamentali in tale avverse circostanze vi è quello della protezione di diritti umani ed il bisogno di essere sempre inclusivi nei confronti delle persone che si trovano in condizioni di difficoltà. È dunque impossibile raggiungere tali risultati senza tener conto delle fasce della popolazione quali donne e bambini. Non si può per tale ragione parlare soltanto dei diritti politici, quando si tratta di operazioni umanitarie, bensì anche tener conto dei diritti morali. Punto chiave delle proprie operazioni di pace è il dialogo con le popolazioni, in qualità di primi attori nella promozione della pace, nella prevenzione del conflitto e dunque nella presa di consapevolezza dei segnali precoci dei disastri umanitari in commenti. Tutto questo e molto altro occorre la collaborazione con altre istituzioni, quali Nato o ONU, tutto nel massimo rispetto possibile, essendo obiettivo principale quello di agire al fine di garantire il benessere dei popoli a livello internazionale, non solo dunque nell'ambito del continente africano. C'è molto lavoro da fare ancora, ma ogni piccolo passo è importante per sperare sempre più in un futuro migliore.